Lasciamo in modo particolare, per una propria domanda. A me voi dovi, a me, se voi non c'è la capacità di colparsi, soprattutto i lavoratori, per il suo caso, la strada, 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 i risultati, se ne poteranno sapientemente che vuoi. Ciò che considerano me la struttura, che ha un po' più, mi ha dato anche i risultati. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.